Ma buon salve e benvenuti in questo nuovo video, si torna a parlare di She-Hulk, oggi parleremo dell'ottavo e penultimo episodio, completamente con spoiler, come al solito, quindi mi raccomando siete stati avvisati. Bando le ciance partiamo subito perché qui le cose di cui parlare sono veramente tante. Ormai la mia opinione generale sulla serie la sapete, a me She-Hulk piace, certo comunque reputo questa serie molto difettosa, ci sono tantissimi problemi e io stesso non ho apprezzato le ultime due puntate, ma quando qualcosa è fatta bene e in questa puntata di cose fatte bene secondo me ce ne sono tantissime, anche qualche stortura c'è, adesso ci arriviamo, io devo farla assolutamente notare. E questa puntata per me è bellissima, super convincente, sia per ovvie ragioni, e qui raga hanno introdotto Daredevil, non posso non avere gli occhi a cuoricino, ma anche per altri motivi di cui adesso parleremo. Partiamo prima però dal pezzo forte, appunto il nostro caro diavolo di Hell's Kitchen, che secondo me è stato gestito benissimo. Ora, palesemente non è il Daredevil della serie TV Netflix, l'abbiamo detto 50 miliardi di volte, non è lui ragazzi, ma sono stati super furbi, perché si sono mantenuti prima di tutto vaghissimi sull'origine del personaggio, sul passato del personaggio, e comunque un fan della serie TV Netflix può tranquillamente fare headcanon e considerare questa puntata di Shulk come seguito della terza stagione di Daredevil. Adesso vi vado a spiegare. Daredevil in questa puntata ha il costume giallo, un costume nuovo, per di più costume, lo sappiamo, fatto da Jacobs, lo stilista tutto strano, l'Edna Mode dei poveri, ma la cosa ha senso se contiamo la terza stagione di Netflix, perché lì Bullseye rubava il costume rosso e quindi per Matt in quella stagione il costume rosso non aveva più senso, e per di più Melvin, il creatore del vecchio costume di Daredevil, adesso è in prigione, quindi ci sta che Matt vada a Los Angeles a farsi fare un costume nuovo da un altro stilista, posto che comunque, ribadisco, non è palesemente il Daredevil Netflix. Anche la questione dell'essere molto, ma molto più solare, questo Daredevil fa battuto ogni due secondi, cozza tantissimo con il Daredevil Netflix, allo stesso tempo però questo Daredevil è un diavolo di Hell's Kitchen che ha trovato ormai un equilibrio tra la vita d'avvocato, quindi tra l'avvocatura, e l'essere un giustiziere, il che si sposa benissimo con quello che è successo nella terza stagione. Lì Matt ha proprio una crisi mistica, una crisi di identità che però va a risolvere nel finale della terza stagione, quindi vedere adesso un Daredevil molto più solare che dà anche consigli su come gestire la propria vita lavorativa con la propria vita da giustiziere, appunto da consigli a Shulk, e il tutto torna tremendamente, però raga, palesemente non è quel Daredevil, anche il modo in cui si muove è completamente diverso, è un Daredevil molto più simile ai fumetti, già l'abbiamo detto, non è il Daredevil di Frank Miller, è il Daredevil proprio dell'origine, fa battuto ogni due secondi, è super agile, il modo in cui si muove non c'entra nulla con l'interpretazione Netflix, e a me piace tantissimo, perché nonostante io ami alla follia il Daredevil Netflix, l'abbiamo già avuto quel Daredevil, il Daredevil tristone è super realistico, adesso voglio vedere più quello fumettistico che è perfetto per l'MCU. So già che molti avranno da controbattere, allora perché hanno messo la sigla del Daredevil Netflix? E che cazzo dovevano mettere? Bring Me To Life dell'Ivan Escenso, sia la canzone del Daredevil di Ben Affleck, è comunque Charlie Cox che interpreta Daredevil, sì, un altro Daredevil, ma fare delle citazioni, fare dei piccoli collegamenti alla serie Netflix ci sta tranquillamente, c'è anche una scena che richiama il primo combattimento, il combattimento più iconico e famoso di quelle interpretazioni di Daredevil, quindi la scena del corridoio, ci stanno queste piccole citazioni, ma non è lui, palesemente non è lui, e ci sta tranquillamente. Ho apprezzato anche moltissimo il flirt tra Daredevil e She-Hulk, anzi tra Matt e Jennifer, posto che comunque già si rumoreggiava questa cosa, io non ero proprio entusiasta inizialmente di questa cosa, non perché fossi pudico, ma semplicemente perché Daredevil ha ancora in ballo un'aliason romantica con Karen Page, con Electra e con Echo, quindi aggiungere anche un'aliason con Jennifer Walters non è che mi piacesse tantissimo, posto che comunque Tatiana Maslani e Charlie Cox hanno una chimica pazzesca insieme, infatti ho adorato ogni singolo minuto in cui i due interagiscono tra di loro, e per di più l'hanno anche sbolognata come una semplice avventura di una notte, quindi sti cavoli ci sta che i due volessero divertirsi, quindi hanno fatto zoom zoom e poi chi si è visto si è visto e poi la scena di Daredevil che fa completamente a caso la camminata della vergogna con tanto di stivaletti messi così come se fossero dei tacchi che non ha senso che Daredevil cammini scalzo perché quando, cioè, ha senso la camminata della vergogna è appunto la ragazza che è stata con i tacchi tutto il tempo quindi se li toglie per stare più comoda, ma Daredevil aveva le scarpe normali, perché cazzo dovrebbe togliersene, vabbè mi ha fatto molto ma molto ridere. Detto questo, nonostante comunque abbia parlato di mezz'ora del Daredevil di Charlie Cox, ma comprendetemi, ero abbastanza fomentato, in questa puntata comunque riesce a spiccare Shulk e anzi la guest star di turno serve per elevare la protagonista ed è una cosa che non era per niente da dare scontate, secondo me l'hanno fatta molto bene. Sono due puntate di seguito che Jennifer viene indirizzata a trovare un punto di equilibrio tra Jennifer Walters e Shulk da degli uomini, l'altra volta nella scorsa puntata c'era il gruppo d'aiuto di Abominio, qui invece c'è Matt Mardo, quindi anche questa volta la questione tutti gli uomini sono pezzi di merda è stata completamente sbolognata, sono veramente felice, anzi, femminismo spicciolo, prenditi questo! La puntata però nella seconda parte, soprattutto nel finale, infatti questa puntata è più lunga del normale, Jennifer lo fa anche notare, ma adesso ci arriviamo sull'abbattimento della quarta parete, offre giustamente anche uno sguardo a degli uomini abbastanza terribili, perché come non è vero che tutti gli uomini sono delle merde, non è vero neanche che tutti gli uomini sono buoni, quindi ci sta a posto che comunque il gruppo Intelligencia non è neanche detto che sia composto tutto da uomini, anzi non credo che sia così, però l'idea di questi uomini che si mettono d'accordo per smerdare sostanzialmente Shulk e quindi le rubano dei dati sensibili dal telefono, la registrano mentre fa, almeno all'epoca stava facendo l'amore con il suo interesse romantico, con Josh e vedere appunto questa Shulk che si ritrova spiattellata, la sua vita privata, anzi no privatissima, proprio in pubblica piazza, non è stato un bel momento, hanno puntato tantissimo sullo slut shaming, addirittura viene proprio chiamata puttana Shulk all'interno dell'episodio e non me l'aspettavo, soprattutto in una serie su Disney Plus, insomma si prospetta un finale molto ma molto interessante, vediamo come gestiranno l'intelligencia, bisogna capire cosa effettivamente vogliano, è un super gruppo, è letteralmente un gruppo di persone normalissime che si incontrano su Reddit per gettare merda sulle persone, esattamente come la gente nella vita reale, quant'è metanarrativa sta cosa, si riunisce su Reddit, su Telegram, per fare shitstorm di persone che non se lo meritano minimamente, posto che comunque nessuno si merita di ricevere una shitstorm e nessuno si merita di vedere la propria vita privata spiattellata così pubblicamente, vedere una Shulk completamente incazzata che distrugge tutto, che causa il panico generale, che rischia anche di ammazzare un tizio, un membro dell'intelligencia, mi è piaciuto tantissimo, anche perché proprio ho letto negli occhi di Tatiana Maslani, negli occhi di Jennifer Walters, l'idea, la consapevolezza del tipo a cacchio mi stanno vedendo tutti come un mostro, ah è questo che prova mio cugino, anzi che provava mio cugino ogni singola volta, insomma finale veramente interessante che mi è piaciuto, vediamo come gestiranno il gran finale, l'ultimo episodio, posto che comunque a me l'idea che tutta la questione di intelligencia verrà sbrogliata soltanto nell'ultima puntata, mi dà molto fastidio, avrei preferito più costruzione nelle precedenti puntate, ma tant'è, voglio capire anche se nell'intelligencia c'è di mezzo il capo, suppongo di sì, vediamo, 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 ora ci sono dei problemi comunque in questa puntata, cose che non mi hanno convinto, nonostante comunque reputi l'episodio tremendamente bilanciato, c'è anche una piccola parte legal che serve soprattutto per introdurti Matt Marduk in maniera per me impeccabile, posto che in tribunale gli fa un mazzo tanto Matt a Jennifer e ci sta tantissimo, quando però i due combattono è Shulk a fare un mazzo tanto a Daredevil, mi è piaciuta come cosa, c'è proprio un bilanciamento tra questi due personaggi, la componente CGI non è che mi abbia fatto impazzire, sia per Shulk che per i movimenti di Daredevil alcune volte sembrano proprio computerizzati, altre volte però invece sono veramente fatti bene, la cosa che non mi ha convinto per niente è proprio la questione di abbattimento della quarta parete, io lo so che l'hanno fatto perché nei fumetti Shulk fa questa cosa, ma a me è proprio estranea, estranea tantissimo, e quando Shulk appunto parla a noi spettatori mi dà fastidio perché mi si completamente distrugge la sospensione dell'incredulità, allo stesso tempo penso, scusa ma se sai di essere in una serie tv, perché determinati passaggi, determinate cose comunque ti colpiscono a livello emotivo, se sai che è tutto finto, se sai che è tutta una serie tv, boh non lo so, non l'hanno gestita benissimo, soprattutto in questa puntata, e poi hanno veramente giocato con i miei sentimenti, quando l'amica di Jennifer fa la mossa di Wolverine con i trucchi, con i vari pennelli per i trucchi, mi ha veramente spezzato il cuore, ma tant'è, a parte queste minuzie, per me la puntata è promossa al 100%, anzi probabilmente è la migliore, e comunque ci ho tenuto a precisare che non è soltanto il fatto che ci sia Daredevil che mi ha portato a promuovere la puntata, secondo me l'hanno gestita bene proprio a tutto tondo, e quindi diamo un plauso almeno questa volta a Shulk. Adesso però voglio sapere la vostra, fatemi sapere qua sotto con un commento se questo ottavo episodio di Shulk vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, sono veramente curioso, e qui secondo me sarà veramente una battaglia, perché i fan sfegatati della serie tv Netflix, secondo me avranno moltissimo da ridire, vediamo, sono veramente curioso, noi ci vediamo alla prossima, in generale ci vediamo quando ci vediamo, ciao a tutti ragazzi!